Non puoi, 1-0 loro, battuta, fallo, 2-0, e si era fuori. Non correre al centro del campo, stai fermo in diagonale, al massimo prende punto lungo lì. 3-0, 4-0. 4-1, battuta vostra. Siete ricezione ora. 5-1. 5-1. Fuori, 6-1, non era neanche Diago. 7-1. Quella la devi murareggiata, non devi difendere a te. 7-2. Elisa, non devi pensare, non sei in grado. Gioca a beach volley. Gioca a beach. 5-1. Gioca a beach. Gioca a beach. Bell'attacco, 8-2. 8-3. 9-3. 9-3. Perché sei in piedi? 9-4. Le gambe. Le gambe in alzate. Le gambe in alzate. 5-9. 10-5. 10-5. 11-5. 11-5. 11-6 12-6 12-6 Non usi le gambe Ilaria e dai i colpetti alla palla 13-6 Bello, questo ci piace 13-7 Batte, 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 su, su Bello, 8-13 14-8 15-8 15-8 15-8 16-8 16-8 17-9